Eccoci, Maurizio Poli, Your Solution. Una piccola incursione nel gruppo Il passaggio nazionale di patrimoni familiari. Un invito, un saluto per le imminenti festività natalizie, ma anche un invito che voglio estendere a tutti i membri del gruppo. Giovedì questo, dalle 18 alle 20, giovedì 14 a Brescia, presso il locale il 21 Grammi, faremo un piccolo aperitivo finanziario denominato proprio Salute Elementare e Salute Finanziaria. Lì ci troveremo con amici e con clienti e chi vorrà essere con noi molto gradito e faremo una piccola apericina. Saremo presenti con, e cui ringrazio, questo video voglio anche ringraziare, con i sponsor che ci seguono nei nostri aperitivi finanziari che sono, e anche l'anno scorso ci avevano seguiti in questa iniziativa, che sono Tradizioni Padane e Gotolengo, che ringrazio, Leonardo. Sarà presente il suo amico Chef, che si chiama Leonardo, che lui ci farà lo show cooking in questa serata, questa apericena, comunità del cibo del monococco, della bassa bresciana, che è in grande indicato Geminati, ci sarà presente il Molino Piantoni, con le sue farine, e avremo i formaggi di Carioni, Carioni Food & Delph, di Trescore, con i suoi formaggi bio e tradizionali e anche senza lattosio. Quest'anno l'azienda è certificata bio. Ascolteremo, io li intervisterò, questi produttori, che ci spiegheranno come fanno a ottenere questa qualità e questi prodotti bio. Nel intermezzo anche la collega, la consulente finanziaria, Giussi Iondelli, ci parlerà brevemente, a tutti noi, ci ricorderà della legge del dopo di noi, che è attiva in Italia, per le famiglie, proprio per il passaggio generazionale all'interno delle famiglie, questa particolarità molto importante per le famiglie da tenere presente. Tutto durerà una mezz'oretta, nel frattempo lo chef ci starà già preparando qualcosa, avremo un piccolo antipastino con della farina particolare del molino che ci faranno delle focacce, ci faranno delle pizze, intanto lo chef ci preparerà i tortelloni ripieni col formaggio senza lattosio di Carioni e poi anche delle tagliatelle al monococco, tutta la base di questo antico cereale che qui nella bassa bresciana ha la sua sede a Cigole, dove c'è l'amico Geminati Riccardo. Quindi ci parleranno di questo antico cereale, lo assaggeremo, assaggeremo tutti questi prodotti e forse alla fine anche un piccolo dolce, lo chef Ilario del 21 Grammin ci ha promesso una piccola dolcetta a fine di tutta questa cosa. Di solito i nostri aperitivi finanziari sono gratuiti, in questo caso come l'anno scorso, per i saluti di Natale facciamo fare un biglietto d'ingresso, un ticket di 10 euro per una pericena così, che verranno lasciati al locale e verranno devoluti poi alla Big Bang del Centro Pesciano Dan, che è un'iniziativa del Centro Pesciano Dan, come piccolo segno concreto, tangibile, di un saluto di Natale da parte nostra. Quindi i produttori ci saranno, il cibo ci sarà, la Giuse ci farà riflettere sull'aspetto del passaggio nazionale nelle famiglie che hanno dei figli che necessitano di essere tutelati e protetti nel loro futuro, quindi i genitori ascoltano bene questi piccoli spunti di riflessione, noi come Yoastolution ci saremo, un piccolo omaggio a tutti quanti che si registreranno, ci lasceranno i loro dati e faremo un piccolo cadeau, una piccola cosa anche a fine dell'apparitivo. Quindi vi aspetto giovedì 14, dalle 18 alle 20 a Brescia, presso il locale 21 grammi, spero di potervi salutare poi numerosi per farvi i nostri auguri di buon Natale, buone feste e noi li faremo al centro bresciano Down di Brescia. Vi aspetto e naturalmente ricordiamoci sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani.